Non è un fiorone qualsiasi ma il Meng Taur, si chiama così perché è ispirato a Domenico Tauro, il selezionatore che lo scoprì oltre due secoli fa. Un termine coniato in dialetto terlizzese, tramandato di generazione in generazione, oggi riconosciuto come prodotto tutelato in biodiversità. Forse non tutti conoscono questa prelibatezza dal sapore dolce e inconfondibile, capace di abbinarsi a qualsiasi ingrediente sia salato sia dolce al punto da creare un autentico menù. Quello che hanno pensato di servire in una cena organizzata ad hoc in un vicolo di Terlizzi dall'associazione Aeroplani di Carta e dalla sede locale di Confcommercio a patrocinare l'evento il comune di Terlizzi e il gal Fiordolivi. È una prima cena in cui i commensali potranno apprezzare il fiorone sotto mille punti di vista, partendo dall'antipasto fino al dolce, in cui in ogni portata di questa cena loro potranno trovare il fiorone cotto e abbinato con una serie di alimenti. Questo perché con questa cena si vuole accendere i riflettori su questo prodotto ormai non molto promosso sul territorio per poi avviare una serie di lavori che giungeranno fino alla sagra dell'anno prossimo che sarà una sagra di carattere nazionale. Dagli antipasti ad un risotto passando per il secondo il dolce, tutto a base di fioroni, portate e studiate per l'occasione, realizzate dagli esperti del ristorante Il Vicolo e della pasticceria Il Cibo degli Dei di Terlizzi. Ad accompagnare il momento gastronomico le interpretazioni teatrali a cura di Gianluca delle Fontane con una raccolta di filastrocche del passato e della studiosa di tradizioni popolari Olga Chiapperini. Insomma una serata alternativa per valorizzare un prodotto autoctono che si sta facendo strada per il riconoscimento del marchio DOP. La traduzione è fiorone, io aspetto che il fiorone mi casca in bocca, cioè mi metto sotto l'albero, aspetto che il fiorone mi casca in bocca, però io non salgo sull'albero per raccoglierlo, quindi una posizione passiva. In realtà la posizione deve essere molto più attiva.